Amici, siamo persone che guariscono. Siamo persone che davvero guariscono la gente dalle malattie. Perché lo facciamo? Perché noi abbiamo incontrato personalmente Gesù Cristo. Lui ha cambiato la nostra vita. Lui ci ha guariti. Lui ci ha liberati. Allora adesso, partendo dalla sua parola, da ciò che ha detto nella Bibbia, sappiamo che abbiamo il potere di guarire. Oggi vogliamo venire da voi, quelli di voi che hanno il coronavirus. Vogliamo guarire direttamente, voi immediatamente e adesso. Ora voglio chiedere a tutti gli infermieri e medici che guardano questo video di mostrarlo ai vostri pazienti. Io non vi sto chiedendo di credermi. Solamente vi sto chiedendo di mostrare questo video ai vostri pazienti. Perché io so e io credo che questa gente sarà guarita. Contate sulla mia fede. Sono al 100% sicura di questo. Assolutamente convinta. Se hai qualche tipo di influenza o accesso alle persone malate di coronavirus, solamente, per favore, vai da loro e mostra questo video. Questo è tutto ciò che sto chiedendo. Padre, ora dichiaro che ogni persona infettata dal coronavirus è adesso guarita per il potere del nome di Gesù. Padre, dichiaro. Proprio in questo momento invochiamo il potere di guarigione di quelle persone. Rilasciamo il potere. Dichiaro che ogni persona infetta che guarda questo video è guarita adesso. Comando ad ogni batterio e ad ogni malattia fuori nel nome di Gesù. Gesù, ti adoro per le guarigioni di queste persone. Grazie. Tu hai detto che noi abbiamo l'autorità su Satana. Quindi dominiamo sulle malattie. E comandiamo loro di andarsene. Rilasciamo il potere sui corpi di quelle persone. Comando la piena guarigione ora nel nome di Gesù. Indipendentemente da quanto la malattia sia avanzata. Piena guarigione. Maledico quelle malattie e le loro cause. Per il potere del nome di Gesù. Siamo Church of Power. Se hai bisogno di guarigione, faccelo sapere. Church of Power è una chiesa apostolica di risveglio basata a Varsavia in Polonia. Amiamo Gesù. Abbiamo trovato il suo amore verso di noi. Facciamo tutto in suo nome per la sua gloria. Perché lo amiamo e amiamo le persone. Parliamo inglese, russo, italiano, spagnolo e molte altre lingue. I nostri servizi sono tradotti, quindi non abbiate fretta di venire. Vieni da noi. E se non puoi vederci di persona, trova la nostra chiesa su Facebook e scrivici. Abbiamo appena creato una pagina inglese in cui pubblichiamo tutti i nostri messaggi, sermoni, insegnamenti ed evangelismi di strada in inglese. È chiamato Church of Power Poland. Abbiamo appena iniziato, ma lo riempiremo rapidamente con il Vangelo, quindi iscriviti alla nostra pagina. Qui troverai l'elenco dei nostri evangelisti di lingua inglese che puoi contattare. Puoi chiamarli o trovarli su Facebook e le immagini qui sono le nostre foto del profilo reale, quindi sarà più facile trovarci. I nostri nomi sono Sai, Gesù sta tornando e devi conoscerlo per essere salvato prima che sia troppo tardi. Solamente con le tue parole, di a Gesù che credi che sia morto per te, che credi che sia risorto dai morti e che è ancora vivo. Di a Gesù che vuoi conoscerlo e lasciarlo entrare nella tua vita. Sai, Gesù è Dio e devi conoscerlo. Gesù deve diventare il Signore della tua vita. E questo sarà il posto sicuro in cui puoi essere. Perché Gesù ti darà la salvezza e la libertà da tutto ciò di cui questo mondo ha paura in questo momento. Gesù ti darà la salvezza e la libertà da tutto ciò di cui questo mondo ha paura in questo momento. Grazie a tutti.